Venerdì 3 settembre 2021, buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 696 TV, insieme andiamo a leggere le notizie che potete trovare nei quotidiani quest'oggi in edicola, prima della parte finale dedicata al web con ampio spazio al nostro portale 8pagine.it. In regia Orlando Matarazzo, ecco alcune delle prime pagine dei quotidiani che passeremo in rassegna e iniziamo allora come di consueto dal Roma, lo storico quotidiano di Napoli. In apertura Draghi, Gela e Novax, sul Green Pass si tira dritto, Salvini furibondo, De Luca convoca i presidi, 250 scuole sentinella per monitorare il virus. E poi in taglio basso tanti box con altre notizie da approfondire all'interno. Domani la scadenza, comunali, rush finale per le liste e a seguire dopo la politica al Consiglio di Stato, il murale di Ugo Russo, il comitato censura travestita. Ancora la cronaca, cocaina in casa, blitz alla sanità, nascondeva 11 dosi. E poi Giuliano, clan Mallardo, esulta micillo o chiacchiarone, ottiene la libertà. Ancora nella prima del Roma, andiamo in taglio alto. L'Italia riparte con un pari, Napoli-Juventus sospesa la vendita dei tagliandi per il big match 1-1 tra Italia e Bulgaria. Per quanto riguarda le qualificazioni a Qatar 2022, il clan si ricompatta. Ancora cronaca, scarcerato di Lauro Junior, il Ras Salvatore va ai domiciliari. Andiamo all'interno del Roma, questa è la prima che rivediamo brevemente. E allora, pagina 4, focus sull'emergenza pandemia. Scuola, De Luca riunisce i presidi in Campania. Monitoraggio in 250 istituti Sentinella durante il vertice alla regione. Protesta dei no pass. Il manager dell'aslo Napoli 2 ha Pozzuoli su 24 posti disponibili, 23 occupati da Novax. Cuffiette e zaini in regalo per chi decide di vaccinarsi. Iniziativa per le prossime due domeniche. Ancora pagina 4, in taglio basso, l'iniziativa di una società di ingegneria napoletana, card obbligatoria in azienda. E poi il Campo Rom di Giuliano, isolato e zona rossa. In quarantena i circa 500 abitanti dopo il caso di una famiglia positiva al virus. Aria blindata e ovviamente questo è diventato un caso di rilievo nazionale rapidamente. E allora tutti i contorni di questa vicenda con il servizio di Simonetta Iepariello. Isolamento domiciliare condiviso di allontanamento fino al 15 settembre dalle case stop agli ingressi e alle uscite dalla zona con presidio delle forze dell'ordine ai varchi di accesso. Il Campo Nomadi di via Carrafiello a Giuliano di Napoli diventa zona rossa su disposizione del governatore De Luca. La decisione, dopo che lo scorso 31 agosto, è stata rilevata la positività al covid di un residente nel campo dove sono insediati 70 nuclei familiari con un numero elevatissimo di persone residenti, 500 gli abitanti. Persone che vivono in stretti rapporti interpersonali, tra loro in condizioni di precarietà igienico-sanitaria, commenta De Luca. L'uomo positivo è attualmente ricoverato nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sono scattati così i tamponi a tappeto e sono emerse nuove positività al virus, di cui la necessità di scongiurare il rischio di un'ampia e ingestibile diffusione del virus. Intanto in campagna sono 461 i nuovi casi su 18.883 tamponi processati e altre 9 le vittime. E l'infettivologo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e primario del Policlinico Tor Vergata di Roma, ospite di punto di vista del direttore Pierluigi Melillo, annuncia sarà un autunno meno drammatico di quello scorso, ma serve prudenza. Io credo che sarà un autunno meno faticoso, meno drammatico dell'autunno scorso, proprio perché il vaccino lavora, perché il vaccino funziona bene. Vi aspetto un aumento di pressione sugli ospedali, ma non certamente tutto quello che è accaduto nell'autunno scorso. Rieccoci in studio, ma solo brevemente perché ci riproiettiamo all'interno del Roma Oggi Nedicola, pagina 5, parliamo di politica. Corona e arre votiamo con Manfredi, centro-sinistra, si chiudono gli ultimi tasselli nelle liste, l'attivista del Laboratorio delle Culture in Napoli libera. E poi l'annuncio con Gianmarino corre il partito dei disoccupati, taglio centrale di pagina 5, Maresca schiera la testimone di giustizia, grasso centro-destra in lista, anche Gennaro Delprete, il PM in aspettativa, con noi icone dell'antimafia. E poi la coalizione del rettore, un mappazzone, l'affondo della Clemente, sono uniti per il potere, Maresca doveva essere civico, ha ingannato, e dunque anche schermaglie politiche. E noi continuiamo però a sfogliare le pagine del Roma, spostandoci a pagina 6, a pagina 9, chiedo scusa, con Napoli Cronaca, la pagina dedicata alla cronaca per l'appunto di Napoli. Per il murale di Ugo Russo decide il Consiglio di Stato. Braccio di ferro, il comitato nato dopo la morte del 15enne a Cuseltar, e censura travestita da pretesti urbanistici. E poi in taglio alto, ragazzo investito e familiari al pirata della strada, costituisciti e ti perdoniamo. L'appello il 27enne era a bordo di un suo scooter, quando è stato tamponato e salvo, ma dovrà affrontare una lunga e dolorosa convalescenza. E ancora nella pagina Napoli Cronaca, una mostra per Jenny Cesarano, progetto Peter. I primi a visitarla saranno i ragazzi del Rione Sanità che partecipano a iniziative dell'Associazione. Questa è pagina 9, dunque andiamo avanti con pagina 14 del Roma. Abbattimenti, tra proteste e lacrime, casal di principe, ruspe in azione per demolire casa abusiva in cui abitavano due nuclei familiari con quattro bimbi. La procura, dopo le polemiche, intervenuti ora perché è già stata trovata una sistemazione alternativa. E allora, focus anche su questo particolare aspetto che viene passato in rassegna all'interno del Roma Oggi in Edicola, al servizio di Rossella Strianese. La casa è un diritto e non si tocca! Le ruspe sono entrate in azione in via Ancona, casal di principe, per abbattere come previsto uno stabile abusivo. La protesta degli inquilini dell'immobile, due famiglie di alcuni cittadini che hanno espresso la loro solidarietà, hanno ritardato di qualche ora l'inizio delle operazioni, ma poi l'abbattimento è iniziato. Ogni colpo della ruspa è una pugnalata al cuore, ha detto la proprietaria di un altro stabile vicino oppure abusivo, tanti sacrifici inutili. La demolizione è stata decisa dalla procura di Santa Maria Capoavetere. Il sindaco del paese, Renato Natale, aveva chiesto una proroga che permettesse di trovare una soluzione abitativa alternativa per i due nuclei familiari. Non avendola ottenuta, ieri si è dimesso. Un gesto eclatante per protestare contro una decisione giuridicamente corretta. Lo sgombero e la demolizione sono stati eseguiti oggi anche perché le due famiglie che lo abitavano hanno trovato una soluzione abitativa alternativa. Lo rivela una nota della procura di Santa Maria Capoavetere firmata da Maria Antonietta Troncone. L'immobile era stato giudicato abusivo e da abbattere con una sentenza penale passata in giudicato il 6 luglio del 2005. Era sprovvisto di autorizzazioni urbanistiche, privo di progetto strutturale, senza certificato di agibilità e di tutte quelle altre certificazioni, compresa quella sanitaria, necessarie ad abitare dei locali. Inoltre i magistrati fanno notare che uno dei due nuclei familiari è già anagraficamente residente da dicembre 2020 in un'abitazione diversa da quella ora demolita, un alloggio popolare della zona, mentre l'altro nucleo familiare, pure sentito dalla polizia giudiziaria, ha trovato una soluzione in affitto. Pagina 15 del Roma, iniziamo la panoramica tra le varie province campane, partendo da Avellino con l'apertura firmata da Paola Iandolo, negozianti in rivolta, no all'isola pedonale, così si danneggiano le nostre attività, alta tensione in via Nappi, compare un manifesto offensivo contro il sindaco Festa, centro storico, bocciata la strategia del vice sindaco Nargi per uno stop prolungato alle auto, e poi Cervinara investito da un SUV, Santo Bono, grave bimbo di tre anni, sempre nella pagina Avellino, andiamo in provincia, Montefredane, nessuna persona coinvolta, i vigili del fuoco limitano i danni e mettono in sicurezza la zona, incendio nell'azienda di rifiuti, gli ambientalisti protestano, e poi Afghanistan, nuove arrivi a Sant'Angelo e Mirabella, immigrati, i sindaci in campo, siamo solidali, sempre nella pagina Avellino, oggi in edicola con il Roma, Urciuoli, una spina per i 5 stelle, rischia l'espulsione, il caso il consigliere comunale non ha ancora chiarito la sua posizione, interviene il prefetto. Dalla pagina Avellino ci spostiamo alla prima delle due pagine su Benevento che passiamo in rassegna, dai furti al ponte crollato, il sindaco va dal prefetto faccia a faccia, il primo cittadino di Apice, Angelo Pepe, a confronto con Tortolano, come vediamo da questo scatto fotografico, sul fronte sicurezza, chiesto di incrementare le forze dell'ordine, i lavori dell'alta velocità stanno creando disagi e danni al territorio, e poi Ciardielli, ok, al risanamento dell'erosione, provincia, il cantiere sarà consegnato entro la prossima settimana, e a seguire, marito e moglie truffati da finto impiegato delle poste, colpo da 4.000 euro, Benevento nel mirino del bandito una coppia di anziani di Rione Ferrovia, sul caso indaga la polizia. A seguire un'altra pagina su Benevento, comunali parte la carica dei 600, amministrative via alla presentazione delle liste saranno 20, 10 a sostegno del sindaco uscente Mastella. Perifano schiera 5 formazioni, Moretti 3, Destasio e il centrodestra ne presentano 2, e poi commercio al Vigi, sì al Green Pass, evitare nuove chiusure. Benevento, il presidente provinciale Confesercenti, il settore non potrebbe affrontare altre restrizioni. Sempre nella sezione Benevento, all'interno del Roma, Unisagno, 264esima per citazioni su 1.662 università al mondo. Benevento, il rettore Canfora, risultati che mostrano la crescita del nostro Ateneo. E poi la pagina Salerno, per concludere la nostra rassegna stampa per quanto riguarda il Roma, il raccordo, situazione da terzo mondo, variante, pessima cartolina anche per i turisti, il nostro territorio ormai è vittima degli imbecilli, rifiuti in autostrada, dopo le segnalazioni e le proteste, il sindaco di Baronissi accusa gli incivili. E poi, cronaca, rubano al Deco, ma non vengono denunciati. Vallo della Lucania, gli autori sono sei ragazzini incastrati dalle telecamere. Battipaglia, acciuffato il capo della banda che rapinava le coppiette, il trentenne marocchino, si trovava in Austria, incastrato dagli agenti dell'Interpol. E poi controlli antidroga, due arresti in città, spaccio, un'azione carabiniera e polizia, neguai un 26enne e un 36enne. Per concludere il nuovo anno scolastico, sarà in presenza, siamo fiduciosi, Salerno, il sindaco Napoli, l'assessore Avossa, in tour negli istituti cittadini, in vista del rientro in classe. E allora, dopo questa ampia panoramica tra le pagine del Roma, oggi ne dico, ci spostiamo sulla Repubblica Edizione Nazionale. In apertura, sì al vaccino obbligatorio, il Premier pronto a prevedere l'immunizzazione per tutti, ma solo con l'ok di Ema e AIFA. Viene definita questa come la sfida di Draghi. E allora, Green Pass è steso subito la terza dose, è subito la terza dose, via libera del PD, silenzio di Conte, no della Lega e nessun paese europeo. Esiste l'imposizione duello anche sulla Morgese. Salvini contestato dal fronte dei governatori, troppi errori. E poi inchiesta, la frontiera dei diritti, fine vita, così il referendum riaccende la battaglia. Si parla ovviamente di eutanasia legale. E poi il punto, due piani diversi, firma Stefano Folli. E a seguire Afghanistan, Sassoli costretti a trattare con i talebani sui profughi. Mentre in taglio centrale, Sorrentino, Maradona e il dolore, il film autobiografico è stata la mano di Dio, emoziona Venezia. E poi non fidatevi dei padroni di Kabul, sempre un focus sulla crisi internazionale in Afghanistan. I 5 Stelle contro Cingolani, la politica perché torna il nucleare. E poi lo scrittore aveva 72 anni. Addio del giudice, genio allegro della malinconia. E poi le qualificazioni ai mondiali. L'Italia rallenta e la Bulgaria strappa il pari. Uno a uno il risultato finale per quanto riguarda la quarta giornata di qualificazione a Qatar 2022. Andiamo all'interno della Repubblica. Pagina 2, pagina 3. Sidi, draghi a terza dose e vaccino obbligatorio. Il governo va avanti. L'Italia e il Covid in primo piano. Il Premier in conferenza stampa con i ministri annuncia l'estensione del Green Pass. Ci sarà la cabina di regia, ma non quella chiesta dal carroccio. Dai Novax, violenza VIH. Ancora la vignetta di LK, punto di svista. Ogni volta che parla Draghi, poi Salvini prova un certo fastidio inevitabile. La coda fra le gambe qualche noia la dà. E dunque pungente sottolineatura per quanto riguarda il rapporto politico tra Draghi e Salvini. La scuola, il TAR respinge ricorsi, prof in aula col certificato, altrimenti si resta a casa. E poi alcuni estratti di dichiarazioni sui temi più scottanti per quanto riguarda la gestione dell'emergenza pandemia. L'Europa è stata abbastanza assente, ma c'è qualcuno che è stato concludente. Nessuno ha la mappa. Però come si fa a dire no ai rifugiati? Così Mario Draghi. Mentre ancora Mario Draghi ha dichiarato, offensivo pensare al Quirinale come altra possibilità, anche nei confronti del Capo dello Stato e non mi preoccupo per il mio futuro. Mentre Roberto Speranza, il Ministro della Salute, ha dichiarato per la terza dose si inizierà a fine settembre e dai soggetti fragili l'indicazione è arrivata anche da EMA e CTS. E poi Patrizio Bianchi, il Ministro dell'Istruzione, ha spiegato dove ci sono classi di studenti vaccinati, le mascherine si possono togliere e si può tornare a sorridere. Pagina 3 della Repubblica edizione nazionale. Il caso lega contro il Premier, ma il partito si spacca. Nord fronda anti Salvini. I governatori confidano nella immunizzazione di massa per uscire dalla pandemia e far ripartire gli affari. Altre pagine della Repubblica nazionale che passiamo in rassegna. Pagina 4, domande e risposte. Prima l'ok dell'AIFA, poi servirà la legge. Chi sarà esentato e il nodo sanzioni. Il calendario per arrivare all'obbligo vaccinale. A fine mese è prevista l'autorizzazione definitiva del farmaco. E ancora le reazioni nelle chat del dissenso. I Novax negano anche il flop. Tutti hanno parlato di noi. Fermeremo il nuovo diktat. Sapete del flop delle manifestazioni annunciate, soprattutto nelle stazioni e nei aeroporti per quanto riguarda l'obbligo del possesso del Green Pass per i treni a lunga percorrenza e per prendere i voli in particolare. E poi l'Italia e il Covid ancora in primo piano. Tanti approfondimenti. Meno contagi ma morti raddoppiati. Ecco perché la variante Delta fa paura. In Italia dai 168 decessi di inizio agosto ai 376 dell'ultima settimana. Un trend che si conferma in tutta Europa. Il 90% delle vittime non è vaccinato. Palù. I tempi di incubazione dai 4-5 giorni ora si riducono a 48 ore. Intervista a Mauro Giacca, docente al King's College di Londra. La nuova frontiera delle cure. Uno spray per bloccare i danni del Covid ai polmoni. Altra. Pagina della Repubblica Nazionale. Ed è pagina 10. La guerra infinita. Andiamo sul caso estero con il dramma afgano. Draghi e Macron. Accogliere gli afghani. Pronta la difesa. UE. Il premier cena a Marsiglia col presidente francese. Parliamo del futuro dell'Unione. Borrell annuncia la svolta militare. Di Maio. Presto per parlare di ambasciata a Kabul. Poi Hussain. La Cina porta investimenti. Però non si sostituirà agli Stati Uniti. Intervista con il senatore pakistano. Non sono i talebani dei anni 90. Li riconosceremo a tre condizioni. Integrità dei confini. Un governo inclusivo e lotta al terrore. Ancora un'altra pagina della Repubblica Edizione Nazionale. Intervista al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Sì, al dialogo sui profughi, ma prematuro riconoscere i talebani. E ancora, vedete, ci sono tutti i punti per quanto riguarda questa crisi internazionale. Alcuni estratti dell'intervista a David Sassoli. La crisi umanitaria in Afghanistan ci riguarda profondamente. Non possiamo lasciarla solo ai paesi confinanti. E poi, sulle questioni militari, dobbiamo prendere atto della debacle e aumentare la nostra capacità di difesa comune e di intervento rapido. Con lo sport, e chiudiamo le pagine della Repubblica Edizione Nazionale, l'Italia inciampa. Un titolo che è l'estrema sintesi di ciò che è accaduto per quanto riguarda il match di qualificazione mondiale di Qatar 2022. Segna chiesa, ma la Bulgaria sfrutta l'unico errore azzurro. Finisce 1-1. Domenica a Basilea, la sfida con la Svizzera è già decisiva per il Qatar. Le pagelle con Florenzi, locomotiva stanca, viene definito così. Giorginio ad andamento lento, Italia che non ha brillato. I protagonisti, il casting di Mancini per cambiare l'attacco. Bellotti, K.O., Kinn, Scamacca, riserva nei club. Ieri in panchina c'era solo Raspadori. Resta la soluzione del falso 9. Possiamo chiudere la Repubblica Edizione Nazionale per spostarci sulla Repubblica Edizione Napoli con l'apertura che è dedicata alle ormai imminenti comunali. Comune, l'ultima beffa rischia lo scioglimento. Se il Consiglio non approva il bilancio di previsione entro 20 giorni, arriva il commissario prefettizio dei Magistris, Napoli discriminata, ma altri due assessori si dimettono. E dunque quella che è la fine della giunta dei Magistris in vista delle prossime elezioni in primo piano oggi con la Repubblica Edizione Napoli. Casal di Principe, abbiamo visto il servizio di Rossella Strianese, demolita la casa abusiva, la procura edificio in situazione di pericolo. Non sono mancate le proteste, così come è polemica sui murales. La prefettura batterà altri altarini dei boss. E poi oggi altri 109 profughi in arrivo da Avezzano, i rifugiati dell'Afghanistan. De Luca incontra i presidi, si riparte il 15, insulti dei Novax davanti alla regione. E poi ancora nella prima della Repubblica Edizione Napoli, il rione Sanità, la municipalità di Poggiani va ai 5 Stelle. E a seguire le proteste, quartiere della cultura intorno al Mann, Paolo Giulierini a pagina 15. E c'è anche questa notizia, il figlio di Pino Daniele, ecco perché ho scelto Manfredi, firma Alessandro Daniele a pagina 3. E poi il progetto Repair, Pompei, un braccio robotico per ricomporre gli affreschi. E dunque anche la tecnologia applicata alla cultura. All'inchierno della Repubblica Edizione Napoli, pagina 2 e pagina 3, con la politica. Consiglio comunale vicino allo scioglimento di magistris perde altri due assessori. Borriello e Menna lasciano la giunta per candidarsi con il 5 Stelle. L'Assemblea entro il 21 settembre deve approvare il bilancio di previsione, rendi conto, altrimenti arriverà un commissario prefettizio. Il sindaco Napoli, discriminata, è messa in pericolo. I trasporti, metro alla stazione Duomo, da domani i treni a pieno regime, 623 Vesuviana. Da lunedì 66 corse in più. Ancora, pagina 3, come dicevamo, politica è il giorno delle liste. Poggiani non sarà candidato nella terza municipalità. Oggi al via la presentazione delle candidature per le elezioni comunali. Gli elenchi devono essere consegnati dalle 8 alle 22, domani dalle 8 alle 12. E poi dicevamo del figlio di Pino Daniele. Perché credo in Manfredi? Il suo operato come ministro è dato una svolta alle Accademie di Belle Arti e ai Conservatori. E poi il Comune al Ministero, Fonifunicolare Chiaia, resti in servizio per altri 8 mesi. Ancora un paio di pagine della Repubblica Edizione Napoli. Pagina 4 e pagina 5. I familiari di Ugo Russo, il murale deve restare qui. Presenteremo ricorso. La Prefettura ordina altri abbattimenti. Mentre a pagina 5, scuola, nessun ritardo. Si ripartirà il 15, ma 200 Novac. Si insultano De Luca e Draghi. Centro direzionale, manifestazione davanti alla Regione. Mentre il Governatore incontra 150 presidi campani. L'assessora Fortini, per i test salivari nelle scuole Sentinella. Stiamo predisponendo l'elenco degli istituti. L'ASL Napoli 3 Sud organizza due Open Day per gli studenti. A cui regalerà zaini e auricolari. E poi Giuliano, cluster nel Camponoma, discatta la zona rossa. Questa è una notizia che abbiamo approfondito in avvia di rassegna stampa con la nostra Simonetta Iepariello. Concludiamo la parte dedicata ai quotidiani cartacei con la prima delle cronache. Cartacei, ma fino a un certo punto, perché sapete che le cronache adesso è fruibile nella sua edizione digitale. Ma sono i 50 centesimi. E allora in apertura, Piazza della Libertà senza collaudo e prove di carico. E la Prefettura dà il via libera. Problemi per l'inaugurazione, ma si fa finta di niente. La ditta Rainone non ha consegnato i lavori, ci sono ancora cantieri aperti. L'opposizione ignora e tace dopo l'ultimo crollo. Stanziati altri fondi del Comune e il jacuzzi in prima con le cronache della redazione delle cronache. Poi Teatro Verdi per i bandi fantasma. Marzullo nella bufera. Le dichiarazioni del maestro di ballo boccia fanno esplodere la polemica. Responsabilità anche del Comune per i mancati controlli. E poi Sport ribarì il sogno proibito. Salernità nel Lazio, nei guai per il caso Gondo. Gli atti alla Procura federale. E andiamo avanti con il web. Ci spostiamo sul nostro portale 8pagine.it. E allora andiamo insieme a leggere quelle che sono le notizie in rilievo. In apertura una notizia drammatica. Schianto tra moto e auto ad Ariano. Provincia di Avellino. Muore giovane Centauro. I dettagli li andiamo ad approfondire insieme. E allora andiamo a caricare la notizia. Sangue sull'asfalto lungo la variante all'altezza di Rione Martiri. Nel dettaglio vedete, oltre alle drammatiche immagini dello schianto, l'articolo di Gianni Vigoroso. Dolore ad Ariano. La moto disintegrata. Il corpo di un giovane sbalzato violentemente sull'asfalto dopo l'impatto con un'auto. Una scena terribile, quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori. La tragedia sulla statale 90 delle Puglie, lungo la variante all'altezza di Rione Martiri, ad Ariano Irpino. E' qui che è avvenuto lo scontro tra una golf con a bordo due donne, mamma e figlia, e una moto guidata da Roberto Alborelli, 27 anni, di Rione San Pietro. Per il giovane Centauro purtroppo non c'è stato nulla da fare. E' giunto già cadavere al pronto soccorso del Frangipane, nonostante la disperata corsa in ambulanza da parte dei sanitari del 118. In ospedale anche le due donne letteralmente sotto shock dopo il tragico schianto. Gianni Vigoroso ha documentato questa drammatica notizia che è in apertura nella home di 8pagine.it dove c'è spazio anche per un'altra notizia relativa alla strada e alle sue insidie. Bimbo investito dal SUV grave al Santo Bono, vicini ai familiari, forza piccolo, la prognosi riservata al sindaco di Cervinara. Il paese intero prega per Davide e ancora nella prima Mirabella e Clano. Restiamo dunque in Irpini, Afghanistan, nuovi arrivi domani a Mirabella e Sant'Angelo dei Lombardi. Ovvero quest'oggi tra tre famiglie saranno sistemate nei due comuni. E allora iniziamo a navigare sezione per sezione per vedere le ultime notizie caricate, scuole, infrastrutture e incendi, tante risorse per il mezzogiorno. Siamo nella sezione Italia dal Consiglio dei Ministri via Libera e provvedimenti individuati dal Ministro Mara Carfagna. Sezione Mondo, vaccino e CDC EMA, terza dose non urgente, valutarla per vulnerabili. La priorità dovrebbe essere quella di vaccinare tutti quelli che non completano il primo ciclo. Dalla sezione Mondo alla sezione Campania, gli ultimi aggiornamenti sul Covid. Sono 461 nuovi positivi a fronte di 18.883 tamponi analizzati. La sezione Avellino. In apertura ovviamente c'è il dramma che si è verificato ad Ariano Irpino e trova spazio anche la vicenda del bimbo investito dal SUV a Cervinara. Ma anche questa notizia che arriva da Tripalda. Furto all'interno della PAM, donna inchiodata dalle telecamere. La denuncia ai carabinieri di Tripalda da parte della proprietà del noto supermercato. Sezione Benevento. La mascherina anti-Covid rompe nella campagna elettorale. Un approfondimento. E poi Caserta. Oltre mille positivi attuali. In provincia di Caserta 54 nuovi guariti. Sezione Napoli. Investito da un'auto pirata sull'autostrada di Napoli. Abbiamo visto l'appello della famiglia a costituirsi. Per quanto riguarda questo pirata della strada. Sezione Salerno. Chiuse le riprese del film di Papaleo. Il sindaco. Un piacere ospitarle. Possiamo allora rientrare in studio. Appuntamento con la nostra informazione. Alle 14.00 con il TG News regionale. Alle 14.30 il TG Sport. Stasera l'edizione serale del nostro TG. Alle 20.15. E poi alle 21.00 anteprima calcio. Vi ricordo anche lunedì l'appuntamento dallo stadio Maradona di Napoli. Per il test Napoli-Benevento alle 21.00 in diretta. Sulle nostre frequenze. In regia Orlando Matarazzo. Non mi resta che augurarti buon inizio di giornata. E buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.